Ma tornate a lavorare insieme, sì o no? Ma io sinceramente vorrei anche, avevamo anche un progetto che però per il momento non si capisce chi tira fiori da nè, bisogna il bico milanese, perché ci vuole un produttore che tira fuori i soldi probabilmente Medusa potrebbe anche farlo tra l'altro è scritto da Paolo Virzi Ma il progetto è scritto da Paolo Virzi? Sì, sì, sì E sia te che Cristian siete d'accordo? Sì, noi siamo d'accordo, però insomma ci sono tutte le complicazioni per cercare di fare un film importante Questa però è una notizia, scusami, questa è una notizia importante cioè tornerebbero al cinema Boldi e De Sica con un progetto scritto da Paolo Virzi ma per ora non si trova i danè Non si trovano i danè purtroppo e la distribuzione è questa anche Insomma è un po' complicato C'è una colletta Qua i ragazzi propongo una colletta Sentite il gesto generoso dei ragazzi nei confronti della coppia De Sica Boldi Ma... Grazie a tutti